grazie a tutti coloro che ci seguono oggi abbiamo raggiunto i mille iscritti sul nostro canale youtube vi presentiamo alcuni dei nostri prodotti principali questo è il clip head una lente da applicare a tutti i tipi di occhiali a vari ingrandimenti ed è molto utile se si devono andare a guardare oggetti molto piccoli può servire per togliersi una scheggia dalle mani ma anche per elettronica modellismo mineralogia gioielli monete francobolli tantissimi utilizzi qui vediamo come funziona a lenti intercambiabili 3x 4x 6x 8x le lenti sono in vetro le facciamo noi è un nostro progetto si cambiano semplicemente a pressione e si montano sugli occhiali permettono di avere le mani libere di avere molti ingrandimenti qui vediamo una moneta montata e quello che si riesce a vedere con la lente questa è una lente da 3 ingrandimenti ora passiamo a vedere come si vede con una lente da 6 ingrandimenti riusciamo ad andare a vedere i particolari più fini ora vediamo una carellata di altri nostri prodotti questi sono dei clip on da applicare agli occhiali con vari ingrandimenti c'è la possibilità di scegliere oppure lenti per la lettura da appoggiare la superficie sia rotonde che rettangolari come in questo caso si fanno scorrere sul foglio e si vede il testo ingrandito lenti da mettere al collo per ricamare e cucire lenti sciolte per vari utilizzi oppure contafili i contafili possono essere in plastica o in metallo lenti in vetro anche queste o in plastica si possono chiudere e diventano facilmente tascabili i contafili possono essere utilizzati per molti impieghi per esempio per guardare stoffa tessuti fili oppure monete franco bolli qui vediamo anche per i testi come si può vedere più è grande la lente meno ingrandisce più è piccola maggiori sono gli ingrandimenti quindi il lentino più piccolo avrà maggiori ingrandimenti ma una dimensione più ristretta è un campo visivo più piccolo con il nostro canale Qui vediamo altri tipi di lenti, oculari, lente classica con manico, occhiali ad alto fattore di ingrandimento e microscopi. Qui vediamo dei microscopi stereoscopici, in particolare questo è un microscopio 20 ingrandimenti portatile. Vediamo che ha gli oculari da 10 ingrandimenti, che si moltiplicano con l'obiettivo da 2 e quindi si ottengono 20 ingrandimenti. C'è la possibilità di regolare la distanza interpupillare. Qui vediamo la messa a fuoco. La luce, che è fondamentale proprio per vedere bene, e la posizione a 45 gradi permette di guardare molto bene da seduti. Qui vediamo dei cristalli di sale, che sono stati messi sotto il microscopio, e andiamo a vedere come si vedono con 20 ingrandimenti. Ecco i cristalli di sale ingranditi. Ora vediamo un meccanismo di un orologio con gli ingranaggi in movimento, ed ecco l'effetto sotto il microscopio, si riescono a vedere tutti i particolari. Ora passiamo alla luce ultravioletta, data da una torcia con 50 led, e vediamo l'effetto su una banconota. I trattini fluorescenti si vedono solo con la luce ultravioletta, alla luce normale non si vedono. Qui invece abbiamo i meccanismi al quarzo per orologi da parete. Vediamo che sono dei meccanismi, questi sono dei pendoli. Si possono utilizzare o per sostituire un orologio che non funziona più, oppure per crearne uno nuovo. È molto semplice, le lancette si applicano a pressione, e occorre solo inserire una batteria per far funzionare l'orologio. Qui vediamo il montaggio, si inserisce il nostro quadrante, che avrà un buco centrale, poi si mettono una rondella e un dado, ben avvitato per fissare il meccanismo al quadrante. E poi a pressione le tre lancette, prima quella delle ore, che ha il foro centrale più grosso, poi quella dei minuti, e infine quella dei secondi. Inseriamo la batteria, il nostro orologio funziona. Qui vediamo alcuni esempi, questo è stato fatto con un centrino, questo invece è pirografato su legno. Ecco un pirografo, questo è un pirografo a penna, made in Germany, molto buono, ci permette di fare cose pregiate. Questo invece è un pirografo professionale, con la regolazione della temperatura, e qui siamo a un livello un pochino superiore, e i risultati sono molto buoni. Queste invece sono punte e trapanini manuali per i modellisti, mandrini di varie dimensioni, e infine forbici e lame da Premana, provincia di Lecco. Sono prodotti artigianali di alta qualità, fatti con materiali pregiati, queste in particolare sono forbici per manicure e pedicure, in acciaio inox in questo caso. Abbiamo però anche forbici per altri utilizzi, sartoria, ufficio, ricamo, e li trovate tutti sul nostro sito, elettronicadidattica.com Questi sono forbici in acciaio nichelato, con finitura lucida, sempre per manicure e pedicure, sempre affilate. E infine forbici per parrucchieri, queste sono in acciaio inox, pinzette di varie forme, lime di varie lunghezze, e come dicevo, forbici per ricamo, molto fini, per andare a tagliare anche i più piccoli fili. Grazie ancora a tutti, continuate a seguirci e visitate il nostro sito elettronicadidattica.com Grazie per la visione!